60% alla Star, 60% alla Cartostrong, 68% al Comune di Brugherio, 65% al Consorzio di Desio. Non andate alla stazione dopo perché le ferrovie sono ferme bloccate dalla Filt GGL. E' vero, noi abbiamo fatto due scioperi, uno a maggio, il 6 di maggio e il 6 settembre oggi, siamo qui ancora, rischia di essere la solita colonna sonora. Ma la musica di questo Paese, ahimè, non cambia. A luglio 47 miliardi di manovra, ticket sanitari, tagli agli enti locali, aumenti delle tasse locali, aumento delle pensioni per le donne, diminuzione del recupero del potere d'acquisto per le pensioni in essere. Oggi la pensione d'anzianità si ha quando va bene a 40 anni, più un anno, più tre mesi, perché ce li hanno caricati alla faccia delle pensioni, non si toccano. E i lavoratori pubblici subiscono, l'abbiamo sentito, il blocco del contratto, degli scatti. Le donne del pubblico impiego vanno in pensione oggi a 65 anni per la vecchiaia, subito hanno avuto i tagli dei precari. E in più, nella manovra che stiamo discutendo oggi per l'ora, una delega fiscale che è fatta per alzare le entrate, non per abbassare la pressione fiscale. Rischiamo di rimetterci i bonus fiscali, le detrazioni per lavoratori dipendenti, di rimetterci una tassa ulteriore, locale, rispetto alla gestione dei servizi. Una stretta sulle pensioni di invalidità, sull'intennità di accompagnamento, sulla reversibilità. La musica è sempre la stessa, perché i dati sono ancora quelli del 6 di maggio. La platea dei contribuenti dell'IRPE è fatta all'82% da lavoratori dipendenti e da pensionati.